8 puntate su Rai1 e su RaiPlay 8 storie di agricoltura sociale, di precisione, biologica 8 aziende che dedicano tutte le loro risorse alla terra e alla qualità dei prodotti che coltivano Evoluzione Terra è lo sviluppo televisivo di un grande progetto che dal 2020 sostiene concretamente le realtà agricole Sullo sfondo, i scenari di una campagna italiana dalla straordinaria bellezza In primo piano, le testimonianze di donne e uomini che credono in un futuro sostenibile da consegnare integro nelle mani delle nuove generazioni di agricoltori Un grande viaggio attraverso la penisola a bordo di un trattore New Holland per far conoscere al grande pubblico l'agricoltura innovativa evidenziando il ruolo delle donne e il rispetto dell'ambiente Mi aspetto domenica per una puntata speciale di Evoluzione Terra su Rai1